O allora eccoci, poi parliamo dei calendari, poi parliamo di mercato. Prima stiamo sulla conferenza che si è svolta questa mattina, finita da una mezz'oretta, un venti minuti, nel momento in cui registro questa chiacchierata con voi, la conferenza di presentazione di Milan Futuro a Milanello. Nel titolo ho messo la notizia di giornata, dopo le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic, dopo le dichiarazioni di Daniele Bonera, e cioè Alex Ximenez Viceteo. Alex Ximenez Viceteo che sta un po' in prima squadra e che sta poi anche a disposizione di Milan Futuro. Del resto su Ximenez l'investimento è stato fatto, non entra nelle croniche di mercato perché non costa 40-50 milioni, non ci sono le commissioni, battuta, ma l'investimento è stato fatto. E quindi ricordo bene quello che avevo avuto modo di recepire da Stefano Pioli la scorsa stagione su Ximenez, e cioè che è un giocatore capace di guizzi, di scatti e di coprire molto il campo. Di tutti i giovani che la scorsa stagione, può crescere Simic, può crescere Zeroli, può crescere Bartesaghi, può crescere Francesco Camarda, però della scorsa stagione, al punto di cottura della scorsa stagione, Stefano Pioli aveva visto proprio in Ximenez un qualcosa di importante, un possibile giocatore da Milan in prospettiva. Per cui la frase di Zlatan oggi, di Ximenez vice Teo, non mi sorprende. Ximenez vice Teo, quindi Teo certezza, ho letto con piacere gli elogi che ha fatto Fabio Capello a Teo Hernandez per quel grandissimo recupero in Francia-Belgio, recupero difensivo e l'esultanza successiva. Ecco, quello è esattamente il Teo che abbiamo avuto in tante parti di questa stagione, quando si è reso disponibile a fare il difensore centrale l'ha fatto molto bene, è cresciuto molto difensivamente a Teo Hernandez. Poi il calcio italiano è molto luminato, molto parlato, vive ancora di luoghi comuni. Quando una dichiarazione dopo l'altra, i dichiaratori seriali colgono i cambiamenti, il giocatore ha già cambiato passo dal punto di vista difensivo Teo ormai da tempo. Ho letto anche oggi delle cose bellissime su Reinders, bene, però stiamo sulla conferenza stampa di Milan Futuro, stiamo su Zlatan Ibrahimovic e Daniele Bonera. Io ho sentito tanto calcio nelle parole di Ibra oggi, molti si sono chiesti all'infinito, quasi allo sfinimento, ma qual è il ruolo di Ibra, cosa effettivamente fa. Chi ha seguito la conferenza stampa oggi ha capito quanto Zlatan si è entrato nelle pieghe, nelle sfumature del significato e del senso di questo nuovo investimento del Milan. Perché su Milan Futuro il Milan fa un grande investimento. Quando Zlatan dice, e adesso i giocatori vedono che le cose nel club succedono, i giovani sentono la prima squadra più vicina. Io non ho vista solo come una vernice la conferenza di oggi, ma l'ho vista proprio come una vera e propria manifestazione di intenti. Ho trovato in pubblico l'italiano di Zlatan ancora più sciolto e fluente rispetto alla conferenza di metà giugno. E Zlatan ci ha tenuto proprio a ribadire tante cose. Ad esempio mi è piaciuto quando ha fatto quel distinguo fra Brahim Diaz e Francesco Camarda. Brahim Diaz e Francesco Camarda. Brahim Diaz che prendeva le botte ma vinceva i contrasti perché era già giocatore, Francesco Camarda è ancora ragazzo. E su Francesco Camarda sia alla mischia, sia alla trincea, sia all'investimento, ma senza prendersi rischi, senza fare dei passi avanti avventati che poi possono trasformarsi in passi indietro. Quindi dalle parole di Zlatan tutta l'attenzione alle cose che si fanno, tutto il significato di una iniziativa come Milan Futuro. Poi Daniele Bonera è entrato più nello specifico, ha parlato evidentemente degli avversari, dell'intensità della Serie C, di quello che aspetta questi ragazzi. Ecco, Ibrahimovic è andato più invece nel merito della scelta, una scelta che per il Milan significa vederlo questo talento. Spesso si parla del talento dei giovani, come se il talento fosse un'entità astratta, da rimirare, da guardare, da osservare. Zlatan vuole che il talento scenda in campo e che il talento si misuri, e che il talento si metta in competizione, che il talento prenda le botte per assorbirle e trasformarle in stimoli per vincere le partite, perché poi l'anno prossimo nel girone B di Serie C Milan Futuro dovrà vincere le partite. Quindi non è stata solo una presentazione, perché è stata soprattutto una indicazione di progetto, uno sguardo proiettato verso il futuro. Si è parlato molto anche della condivisione del link fra la prima squadra e la seconda squadra, perché Milan Futuro e la seconda squadra sarà praticamente il laboratorio di Milanello. La primavera si sposta al Bismarra, alla Puma House of Football, ma non per staccarsi da Milanello, ma per tenere viva anche nei ragazzi della primavera quella che deve essere sempre l'ambizione, quello che deve essere sempre il sogno di arrivare in prima squadra. Quindi Milan Futuro è un investimento, è una piattaforma che il club mette a disposizione. Poi tocca ai ragazzi. E qui Zlatan è stato giustamente chiaro. Poi tocca ai ragazzi. Io tocco spesso questo punto. Tocca ai ragazzi. Coglierla questa opportunità. Viverla bene questa opportunità. Trasformarla in qualcosa di importante, perché Zlatan lo ha detto, parlava ai giornalisti, ma lo ha detto ai ragazzi. Non bisogna toccarla la prima squadra. Bisogna starci per la squadra. E quindi esserci, starci, conquistare obiettivi, conquistare territorio. Ecco, ho visto molto nel Libra Dirigente e che oggi ho personalmente colto molto di più rispetto alla conferenza di giugno. Ho visto proprio l'animale da competizione, che indica ai, tra virgolette, cuccioli, ai nuovi del branco, quali sono le zolle da andarsi a prenderle e come andarsene a prendere. Poi sta loro, sta i ragazzi. Sta Capitan Zeroli, sta Francesco Camarda. Si è parlato anche di Jovan Chirovski, che si occuperà da vicino, dal punto di vista dirigenziale di Milan Futuro. Ecco, tutti i temi toccati in maniera specifica. Poi, naturalmente, Zlatan ha rimandato all'appuntamento di lunedì, alla conferenza stampa, che seguirò anche io personalmente, di Mister Fonseca, la conferenza stampa della società del nuovo allenatore, il giorno del raduno, l'8 luglio, l'inizio della stagione, il primo giorno, tra virgolette, di scuola. Ecco, quindi, per quanto riguarda la prima squadra, se ne parlerà lunedì e, naturalmente, Milan Futuro è stato, diciamo, il primo anello di congiunzione. E poi, la catena finale la vivremo e la scopriremo tutta lunedì. A più tardi parleremo di calendario, poi a più tardi parleremo di mercato.